e chi ne lo traduce? e noi... mamma mamma c'è me fa una chiamata che tu parli a russia come? io parli a russia, io parli all'inteduttore che parli a russia e me fa un tic tac così cari c'è questa mamma nene, stiamo scendendo e comunque qui se sei sei chiamato e se sei scendendo verso Napoli e che fa prima come lei, comunque tu hai... ma io non so, ma che fa quella ma tu sai come lei sei il cuore da sempre vinto ma chi è? eeeh come se tu hai fatto la faccia c'è ora e poi li dobbiamo tutte le macchie mettiamo tutte le macchie in modi e c'è da tutti qua e dici mamma si è ma tu sei vicino a russia, ma tu sei andato? noi ci parliamo solamente che è il barmitte frate ma... comunque... comunque... stanno venendo, stanno scendendo ma ma di che queste stanno inutane fighe di carriere e ci fanno bloccate, stanno sbloccare ma... ma l'interpol, ma l'interpol che poteva, ti capi? lo fanno le macchie, si chiede? che li vengono con la fiat ma che... ma... ma... ma lo sapo o non lo sapo? lo sapo o non lo sapo? lo sapo o non lo sapo? stanno sbloccare, stanno scendendo stanno scendendo, ma chi sono tutti stagendo? ma Roppe2 che succede? Roppe2 è un fratello, è un fratello, stanno sbloccare, stavare la famiglia qual è la famiglia Roppe2? Roppe2 non esiste, siamo come il narcozzo Roppe2 siamo fuori legge ma noi ci facciamo noi Roppe2 stanno venendo, stanno scendendo oh ma credo, la mattina comunque mi fanno faticare di 6.4, 6.5 ho fatto conto di ciò perchè non è l'esercito Roppe2 si scende 6.8 con la gravata stiamo muovendo ma 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 non lo sapete ma ma non lo sapete ma ma tu stanno scendendo la guerra stanno venendo ma chi è? è l'esercito, stanno scendendo, stanno sbagliando ma chi è la russa? la russia comunque mi hai chiamato già russa ma tu quando veniamo in Italia comunque comporti tutto buono perchè chi si dice che dà le mie ti corrisponde che l'Italia non ti dà neanche che pensare le parole hai chiamato lei se sai tu hai chiamato hai chiamato tutto il coso mi ha chiamato ma mi chiamato hai chiamato l'America la russa c'è chiamato tutto qua vorrei fare la guerra ma l'hai chiamato a me con il telefono tra l'altro ti faccio vedere la legislazione sai che mi fa? c'è uno che parla buono russi no? e mi fanno video a me per il telefono ho detto lui ha detto il russi è quello che è dice lei si è un malese ha detto guarda noi qua stiamo parlando con la russia che è quello che è il russi cosa ha detto quello che è quello che è fatto il russi sta dicendo vuole fare la guerra in Italia però vuole a che fare prima con te hai capito quando arriva il tic toc a me fa c'è un'altra cosa che si parla che parla luce